Giulia Ciavarella, è stata la notte perfetta, come ha detto anche Laura Gelnite, 78 a 45, forse neanche voi vi aspettavate tanto distacco, però davvero ha funzionato tutto per il merito giusto. No, no, ce l'aspettavamo perché 0 su 3, 3 partite che contavano relativamente, siamo venuti fuori nella partita che contava, è importante un punteggio del genere perché ce l'avevamo posto proprio come obiettivo, sia il 45 che il 78, quindi è importante. Senti, ho fatto la stessa domanda a Laura Gelnite, cosa è cambiato in 48 ore? Perché chiaramente con una squadra con cui hai perso tre volte, poi subentrano anche blocchi mentali, ci sono tante cose che possono subentrare nella testa di un atleta. Abbiamo letto un articolo dove ci dicevano che Umberti era la nostra bestia nera, per noi nessuno è una bestia nera perché noi andiamo in campo e non guardiamo in faccia nessuno e oggi l'abbiamo dimostrato. Però questa vittoria poteva essere lo sliding door della vostra stagione? Era la partita che doveva farci sbloccare e ci ha fatto nettamente sbloccare, tutte singolarmente come squadra, era la partita che cercavamo e che dovevamo trovare a incontrare.